Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo format di video sperimentale, qualcosa che non ho mai provato prima che non so se è troppo avanzato, se sarà apprezzato da voi, questo me lo farete sapere ma in buona sostanza ho deciso di fare questo, ho deciso di selezionare un funnel per chi non sa che cos'è un funnel, in poche parole è un sistema di vendita che va dal primo annuncio su Facebook o qualunque altra piattaforma di traffico sino alla vendita del prodotto o servizio e poi anche agli appsell per aumentare quanto un cliente, un nuovo cliente spende con voi quindi ho preso l'analisi, ho preso un funnel diciamo, che analizzeremo insieme e lo commenteremo e trarremo delle lezioni da questo funnel in buona sostanza ho scelto un funnel nel campo della difesa personale ho scelto questo tipo di funnel perché credo che sia una nicchia splendida perché ho trovato sorprendente il fatto che potesse funzionare su Facebook non tanto funzionare che potesse andare, che potesse essere compliant e poi l'ho selezionato perché i pezzi di vendita sono scritti in maniera egresa, sublime questo è chiaramente nel mercato americano quindi userò la funzione di Google Translate per tradurre la pagina quando vi ricommenterò perché chiaramente se no facciamo un video in inglese che diventa un po' complesso e essenzialmente andrò a tirarvi fuori delle lezioni e non so, impareremo qualcosa insieme attraverso questo funnel allora ho selezionato questo format per un motivo molto semplice perché questo è diciamo un esercizio che io faccio di solito insomma, che faccio spesso quindi prendere dei funnel e andare a vedere un attimino come sono composti che tipo di lezioni posso trarre da quello che stanno facendo questi marketers in nicchie molto competitive, molto difficili per capire insomma come posso migliorare, come posso applicare le stesse lezioni anche nella mia quotidianità, nelle mie attività e quindi ho detto vabbè, dato che lo faccio come esercizio perché non ci metto magari una mezz'oretta in più giro un video per voi e magari creiamo qualcosa che possa essere utile anche a qualcun altro quindi ho deciso di fare questo esperimento questa volta mi farete sapere voi come è venuto, se vi piace, se avete trovato le lezioni, degli spunti interessanti e nulla, quindi direi mando le chance iniziamo immediatamente a immergerci in questa analisi funnel sulla difesa personale dal Facebook ad alla vendita del prodotto sino alle upsell fatemi sapere poi cosa ve ne pare ok ragazzi, allora partiamo con questo funnel che abbiamo detto nella difesa personale allora questi giusto per darvi un po' di contesto questi sono quelli di, si chiama Alpha Nation e loro hanno lanciato diverse offerte che hanno fatturato centinaia di milioni di dollari ok, quindi non sono gli ultimi arrivati anzi questi sono alcuni dei marketer con più palle diciamo che ci siano in circolazione e quindi insomma hanno testato le variabili tutte le variabili per un numero spropositato di volte e quando giocano non giocano in piccolo quindi l'offerta che noi andremo a vedere è un'offerta che sta sicuramente massinando soldi e stiamo, questa è la library di Facebook dove si vedono essenzialmente le inserzioni di ogni inserzionista e qui abbiamo delle inserzioni che stanno andando da settembre quindi questo sicuramente funziona e compliant perché insomma sono già tre mesi che sta andando ed è affascinante perché guardate questo video ad cioè praticamente c'è gente che spara è incredibile cazzi, non so come fa a essere questa roba compliant però questa è un'altra offerta, non ci interessa quello che ci interessa invece sono queste, sono questi annunci qua che parlano di how to win a street fight in seconds come vincere una lotta di strada in secondi e vediamo qua allora guardate intanto lo stile lo stile è quasi giornalistico c'è Business Insider, non so se lo conoscete ma fa annunci di questo tipo quindi essenzialmente c'è la musica, ci sono questi video che fateci caso sono proprio amatoriali cioè non sono video e questo attira l'attenzione di più sembrano più native, più raw più naturali e in più ci mettono la musica forte queste sequenze di video e questi testi hai quello che ti serve hai ciò che serve per andartene da un cioè riuscire a cavartela essenzialmente da un attacco inaspettato quindi domanda intrigante qua now you can learn tire one special force quindi adesso puoi imparare le mosse diciamo più efficaci chiamavano così tire one sono il numero uno delle delle forze speciali che posso che pongono fine a una lotta in secondi e poi mi fa vedere tutte queste tattiche cioè io non riesco a comprendere onestamente come sta roba posso essere compliant sono abbastanza sconvolto cioè io non ho mai non ho mai sponsorizzato autodifeso onestamente però non mi aspettavo sinceramente che facebook facesse passare roba di questo tipo allora vediamo un po' qua il testo quindi abbiamo visto un video raw ok parte con questa roba qua vediamo se c'è qualcuno che si mena forse sì 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 guardate che c'è la lotta di strada allora vediamo qui vedete qui c'è c'è una lotta di strada proprio si vede che è vera e poi dopo parte che fa vedere queste mosche can't believe how many hours of my life I've wasted on combat training they could have showed me this stuff my first time facciamo una traduzione al volo che non riesco a credere quante ore della mia vita ho sprecato in addestramento quindi sì in combat training quindi addestramento al combattimento però avrebbero potuto mostrarmi queste cose nel primo giorno di lezione di base di tutto ciò di cui avrei avuto bisogno è così semplice che una scimmia potrebbe impararlo bello allora in poche parole hanno messo un testo anche tra virgolette come se fosse la testimonianza di un cliente però senza menzionare che c'è un prodotto senza dire che c'è un prodotto si parla di qualcosa di cioè non si parla di pagamento quindi fa pubblicità essenzialmente al contenuto che vanno poi a scoprire cliccando sulla pagina questa è una strategia che utilizzo spesso anche io onestamente per il casebookare è molto interessante poi qua vuoi mettere fine a un anzi no vuoi fare un KO quindi abbattere una persona immediatamente questo è molto bello perché parla di questo brachial stun il brachial stun è una delle tecniche più devastate più devastanti e comunque meno utilizzate nell'autodifesa ok cos'è interessante qua brachial stun cos'è il brachial stun questo è il meccanismo unico ti attira l'attenzione ti incuriosisce perché tu ti chiedi ma cos'è questo brachial stun di cosa si tratta e ti prende come si dice suscita la tua curiosità ti aggancia e poi dopo ti spiega un attimino di cosa si tratta è una mossa che fai alcol eccetera eccetera non è magia non è voodoo è solo scienza bella anche come la mette giù come sotto forma di prova scienza quindi vincere un combattimento usando la scienza cioè ti fa sentire anche intelligente è una figata poi qua fa vedere le immagini queste sono le sezioni creative e dinamiche quindi ci sono più testi eccetera eccetera qua fa vedere il punto esatto in cui colpire questa tirata insieme poi guardate questo è interessante come l'immagine sia proprio di qualità bassissima perché questa è la foto o uno schermo addirittura e secondo me questo aiuta ancora una volta a tirare di più l'attenzione rende più più vera rende più vera l'immagine e vediamo i dettagli dell'inserzione ci sono diversi ma questa è intera che è sempre questa immagine che sembra c'è una foto allo schermo questo invece ha solo il call solo questo punto in cui andare a colpire che comunque attira l'attenzione perché è una roba strana e questo invece con entrambi ok ok siamo andati l'oltre ok va bene andiamo a vedere gli altri annunci un pochino più recenti poi dopo andiamo nella video 6 letter the world has become very unstable and never scary quindi qua cerca di spaventare cazzo ah no questo però no questo è effective shooting questa è un'offerta sulla sparatoria che non c'entra niente questa è un'altra versione bella questa questa è un'altra versione del video precedente è un pochino più lunga diciamo c'è una voce di sottofondo e qua invece va solo a immagini e slide questa è una sorta di slide e qua invece fa vedere gente che si picchia fa vedere degli esempi non riesco a capire come sta roba riesce a andare su facebook anche se dovessero bannarli cioè le lezioni cioè quello che hanno creato può andare sicuramente su youtube cioè questa roba qua sta andando sicuramente anche su youtube e stanno facendo un boato di soldi adesso che stiamo andando su facebook questo è incredibile però è anche fantastico allo stesso punto allo stesso momento qui active duty special operation warrior shares the simple secret that makes winning a fight as natural and automatic questa è la headline della pagina in cui andremo a vedere questo qui praticamente significa un guerriero attivo nelle operazioni speciali condivide il semplice segreto che rende vincere un combattimento una lotta naturale e automatico come uno starnuto guardate anche la metafora che ha creato la similitudine che ha creato per dare proprio l'idea concreta di semplicità andiamo avanti questa è un'inserzione evidentemente che sta funzionando perché l'hanno rilanciato anche a dicembre quindi interessante qua hanno rimesso sempre la headline che poi andremo a vedere del video di vendita and the fighting seconds no black bell needle bella questa finisci una lotta in secondi non serve nessuna cintura nera no perché una persona chiaramente c'ha l'obiezione cazzo ma io non ho voglia di allenarmi anni e anni per fare karate tutte queste robe qua no 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 non serve una cintura nera questa è bella ah qua cambiano I can't believe questa è quella di prima qua stanno facendo una lotta di strada però guardate che bello che ci sono solo le bandiere americane questa gente che è in tutta militare questi sono militari quindi si vede che è proprio una sono tecniche di combattimento militari quindi how to win street fighting how to che hanno dimenticato un to però come vincere una lotta di strada in secondi non so se l'hanno dimenticato il to o l'hanno voluto evitare perché magari da mobile non si vedeva tutto se no possibile possibile 98% delle persone non conosce queste tecniche brutali violence does not discriminate you baby next la violenza non discrimina potresti essere il prossimo sarei pronto? io non so io ragazzi onestamente non mi sentirai in mio agio a lanciare degli ad così perché sono veramente molto borderline queste robe cioè proprio mettono in leva la paura in maniera pazzesca magari che ne so hanno contatti con facebook e possono sponsorizzare roba di questo tipo però per gente normale questo è il 28 dicembre 29 dicembre li hanno appena pubblicati questi per gente normale io non mi fiderei onestamente di lanciare ad di questo tipo quindi però insomma i principi che ci stanno dietro sono interessanti va bene questi sono gli ad non sono tanti sono pochi andiamo a vedere dove puntano quindi se noi clicchiamo qua clicchiamo finiamo su una video 6 letter ok questa tipica video 6 letter vediamo che c'è il timer interessante il fatto che ci sia il timer usano vimeo di solito non uso vimeo perché è pesante però se loro lo stanno usando significa che probabilmente non è cioè ha compiuto progressi questo questo player quindi vediamo c'è un logo c'è questa immagine sottofondo con chiaramente con gli agenti speciali che dà questa sensazione appunto di lotto di guerra eccetera questo è questo script per click to turn on sound questo lo vedo spesso su clickbank quindi deve essere qualcosa che funziona questa tipica scritta aspetta 10 secondi eccetera c'è I prefer to read click here quindi c'è anche il link alla 6 letter che noi andremo a vedere quella chiaramente e poi c'è una headline quindi questa headline è quella che c'era prima no? quella del del guerriero delle inattività delle operazioni speciali che condivide il semplice segreto che rende vincere vincere in tutto maiuscolo una lotta un combattimento naturale come e automatico naturale e automatico come starnutire come lo starnuto vediamo un attimino l'inizio del video poi andiamo a vedere invece lo script allora interessante ragazzi utilizzano le slide non utilizzano il video di faccia che di solito è quello che noi utilizziamo perché converte meglio cioè avere la persona che ti guarda negli occhi mentre parla poi ci sono i video stock cioè danno un altro tipo di sensazione e onestamente è quello che noi stiamo utilizzando sempre ok? quindi specialmente in un mercato come quello americano dove un click ti costa un euro o più ok? un click dipende dalla nicchia chiaramente contro un quarto in Italia un terzo o un quarto in Italia mi fa capire che quando create delle slide e sono fatte bene se potete andare avanti comunque è una cosa positiva secondo me che utilizzano le slide perché è cento volte più semplice fare una roba di questo tipo cioè aprite Keynote PowerPoint eccetera eccetera e le fate in un attimo quasi in un attimo mentre se dovete mettervi lì fare il video girato e lo speaker deve essere bravo deve recitare bene poi deve esserci dovete mettere i sottotitoli dovete fare la ricerca dei video stocks è un lavoro molto lungo in questo caso no poi voglio vedere una roba in realtà ragazzi che sarebbe da mobile ok loro non hanno la versione vediamo se noi aggiorniamo cosa succede sì non hanno la versione mobile friendly cioè è sempre 16 noni fondamentalmente continuo questo è interessante ragazzi utilizzarlo questo script cioè questo script Safari questa funzione di Safari è molto figa perché vi permette di vedere anche come lavorano queste persone con il mobile che onestamente noi abbiamo quasi tutto il traffico mobile quindi è più importante del desktop e normalmente non utilizziamo 16 noni utilizziamo 9 sedicesimi che sarebbe l'opposto fondamentalmente però loro stanno utilizzando questo e quindi insomma ancora questo funziona andiamo avanti dai vediamo se c'è qualcosa interessante speed up allora ragazzi una cosa non preoccupatevi di capire che cosa dice perché adesso andiamo a vedere lo script di che altro voglio dare giusto la sensazione di come è stato creato questo script e dove utilizza diciamo delle immagini quando alterna le slides semplici e le immagini ogni quanto lo fa giusto per avere un feeling anche la voce tutto quanto tra l'altro ragazzi lo script è fenomenale io ho già iniziato a leggerlo prima adesso poi ci arriviamo la voce è perfetta comunque si sembra un po' una versione diciamo da quasi da split test non da split test da test proprio ok funzionerà non funzionerà proviamolo così perché è molto minimale ok non è una cosa complessa quella che hanno buttato fuori quindi interessante questa cosa andiamo a vedere invece lo script perché se noi allora in realtà uscì prima abbiamo visto disattiva modello design reattivo aggiorniamo allora se noi tentiamo di uscire apre un pop up questo non è l'exit pop up che impedisce l'uscita che non è compliant su facebook eccetera è un semplice pop up che ti rimanda alla versione testuale questo lo utilizzano spesso ci sono pareri contrastanti funziona meglio non funziona meglio rispetto al solo video però loro lo utilizzano quindi sicuramente gli fa bene e andiamo a vedere ok qua addirittura c'è un altro per il coupon che ci arriviamo dopo questo l'ho già tradotto mi pare ok andiamo a vedere questo script che l'ho tradotto qua e vediamo cosa dice come parte chiaramente non ce lo guardiamo tutto perché guardate ragazzi è abbastanza lunghetto non è non è il più lungo in assoluto eh però insomma qua diventa un video di 5 ore questo se no andiamo a vederlo allora abbiamo detto l'headline l'abbiamo già vista mille volte quindi fondamentalmente questa è la parte testuale per chi non ha voglia di guardare il video per chi sta per uscire quindi diciamo è il classico piedino nella porta del venditore quando il venditore porta a porta no mette il piede quando una persona sta cercando di cacciarlo fuori perché non gli interessa no il piedino lo mette lì e in questo caso il piedino significa aspetta guarda la trascrizione del video e vediamo cosa dice la trascrizione del video qua ragazzi non c'è niente non è niente di nuovo semplicemente il testo del video è buttato giù con le stesse immagini addirittura ok le stesse immagini che utilizzano che utilizzano il video cioè è incredibile la pigrizza la virgolette che hanno usato ma c'è questa cosa è figa ragazzi perché più sono tranquilli e pigri loro che lavorano a questi livelli più possiamo permetterci noi quindi questa cosa onestamente mi dà buone sensazioni allora vediamo cosa dice ho una storia per te è una bella storia quindi una storia per te in italiano magari l'avremmo tradotto come una storia da raccontarti è una bella storia ancora più importante è una storia su una manciata di abilità molto molto semplici che ti daranno la vittoria quando la violenza colpisce e colpirà allora facciamo una cosa io apro in un'altra scheda questo perché quando la traduzione è fatta male andiamo a vedere quindi allora questa è una storia a proposito di una manciata di abilità che ti daranno la vittoria quando arriva quando la violenza colpisce e colpirà quindi fa paura metti in via la paura la storia è iniziata in una calda piccicosa notte di luglio del 1994 guardate come parte immediatamente nella storia ok qua un piccolo incipit ok una piccola introduzione alla storia però non è non è il classico la classica intro ciao sono XYZ in questa presentazione ti voglio parlare di questa cosa che è molto figa rimani con me perché eccetera eccetera che è una forma diciamo che si utilizza spesso che io utilizzo spesso personalmente ma in questo caso non l'hanno seguito è interessante perché in questa maniera non sa proprio di vendita perché è una roba diversa ho una storia per te ho una storia da raccontarti io ho le difese abbassate perché voglio ascoltare quello che tu mi stai dicendo perché mi vuoi raccontare una manciata di abilità di tecniche quello che è che mi possono far vincere in una lotta in un combattimento per strada eccetera eccetera quindi sono interessato la difesa abbassata non sei tu semplicemente a dire qualcosa ma me la stai mostrando quindi è figo il lead che parte immediatamente nella storia molto interessante adesso vediamo come va avanti la storia è iniziata in una calda piccicosa notte di luglio del 1994 quindi il quando quando è partita eppure il sudore che bagnava la mia maglietta non era solo per il caldo ero terrorizzato guardate che bello come utilizza anche i 5 sensi il sudore che bagnava la mia maglietta vi fa proprio immaginare vi dà una visione chiara di questa persona cazzo che era veramente terrorizzata perché sudava dalla paura sapevo nel profondo delle mie ossa o in italiano sapevo nel profondo magari che stavo per essere preso a calci in culo e non c'era niente che potessi fare al riguardo comunque ho gonfiato il petto e ho serrato la mascella facendo del mio meglio per sembrare duro e sicuro di me per la mia ragazza di 21 anni calda come il deserto afgano calda come se hold the afghan desert girlfriend ok ok per un modo di dire americano per dire che era veramente una figa spaziale ok noi in italiano avremmo detto qualcosa volevo sembrare duro e sicuro di me per la mia ragazza di 21 anni che era una figa spaziale fondamentalmente lei ha 21 anni e io 17 quindi sì io ero l'uomo non che mi sentissi tale però in effetti l'unico pensiero che mi passava per la mente era santo cielo questo ragazzo mi picchierà a morte è bello ragazzi guardate come sino a qua è passato da cioè ci sono tanti ci sono tanti aspetti ok però è passato da ok quando è successo cosa stava succedendo quindi anche le sensazioni diciamo cinestetiche poi si entra nei la situazione spiega la situazione di quello che era lì si racconta di questa ragazza per creare empatia con noi e per farsi capire che la posta in gioco era alta non era semplicemente paura di essere picchiato da una persona ma si era anche dalla vergogna perché cazzo lui voleva fare colpo su questa era la sua ragazza chiaramente quindi non voleva farsi vedere una pappa molle e quindi qualunque uomo diciamo che tenga la propria virilità si può riconoscere in questa storia dice cazzo non è solo io che avevo paura di essere picchiato ma cazzo sono io che avevo paura di essere picchiato e c'era un'altra persona che guardava a me che avevo paura di essere picchiato non era una persona qualunque era una figa spaziale ok cioè non c'è niente di più svilente per un uomo ok quindi è bella questa parte fondamentale insomma nel pezzo di copi per creare questo momentum poi non che mi sentissi tale però quindi qua inizia a dare degli indizi su ciò che su chi è lui ok quindi lui io non mi sentivo uomo mi sta dicendo quindi è bello anche l'elemento di fiction ok come le tecniche diciamo del dei romanzi ok quando uno scrive un romanzo utilizza tutte queste tecniche qua che lui sta applicando per la 6 lettere in maniera super coincisa poi qua c'è il mondo interiore diciamo quelli che sono i suoi pensieri e poi adesso vediamo che continua nel contesto vedi l'ex fidanzato della mia ragazza era uno dei duri locali il suo camioncino quindi il suo pick up track è stato fermato era fermo sul prato e lui era in piedi di fronte ad esso scagliando bottiglie di birra insulti e minazze guardate che bello bottiglie di birra e vi fa subito capire che è questo ubriaco il suo discorso era confuso quindi parlava in modo confuso non era così ubriaco ma non era così ubriaco da non riuscire a distinguere chiaramente la sua vivida promessa e quasi mi sono incazzato per la paura la sua vivida promessa che cacchio significa la sua vivida promessa è quella che sta per arrivare è questa la promessa vieni qua fuori ragazzo ti spaccherò il culo e ti scoperò la ragazza esci qui ad affrontarvi cazzo se penso che sta roba sta andando su facebook è incredibile magari il video che ne so che filtra un po' però c'è il video poi dopo c'è anche il link a questa pagina secondo me hanno i giorni contati ragazzi detto fra me e voi secondo me hanno i giorni contati su questa pagina però magari mi sbaglio vedremo tra qualche mese se questa pagina adesso non mi ricordo se ne era come si chiamava quella pagina vabbè è qui vediamo qua questa warrior minded vedremo se questa warrior minded sarà ancora avrà ancora annunci oppure no ok io dico di no però vedremo ok andiamo avanti riusci a immaginare come mi sono sentito si può mettere nei miei panni e provare la paura di sapere che non puoi nemmeno proteggerti per non parlare delle persone che ami allora ti prego di continuare a leggere e usare la mia storia per prepararti in modo che quando la violenza minaccia i tuoi cari tu ne esci al top quello che non mi piace di questa frase è che è troppo lungo onestamente non avrei mai messo una frase così lunga cioè mi finisco il fiato quando sono arrivato quando arrivo sino in fondo però comunque fila molto bene ok si legge bene questo pezzo è scritto in maniera maniera ottima la paura è il tuo peggior nemico in un combattimento bello che qua inizia a dare in un certo senso educazione per la vendita ma nell'altro mi sta insegnando qualcosa ok la paura è il peggior nemico nel mio combattimento ok sento che sto imparando qualcosa bene fammi andare avanti voglio vedere cosa succede dopo ora le luci del pick up di questo tizio brillavano nei miei occhi da dietro di lui ha fatto sembrare il tizio più grande bigger than life più grande della vita quindi gigantesco come un delinquente uscito da un film a tarda notte ed è allora che la mia ragazza ha confermato la mia peggiore paura con voce terrorizzata strillò merda ti ucciderà john noi si chiamano tutti john chiamo la polizia non andare là fuori promettimelo così mi sono rannicchiato lì sbirciando attraverso le persiane economiche mentre aspettavamo i poliziati desiderando di poter resistere a questo tizio guardate che bella anche l'immagine bello sbirciando attraverso le persiane economiche mi piace un caso magari economiche non l'avrei utilizzato magari perché appesantisce un po' però sbirciando attraverso le persiane è figo perché vi da un cioè vi crea un'immagine nella mente il copio alla fine è creare immagini e questo lo sto facendo alla grande anche il rannicchiato lì è bello ma sapendo che se fossi uscito da quella porta ero finito senza nemmeno toccarmi questo ragazza mi aveva praticamente tagliato le palle e mi aveva privato di ogni grammo di virilità meravigliosa questa frase ragazzi sta cosa sta facendo sta dimensionalizzando ciò che è successo qua sopra quindi io prima vi dicevo che per un uomo non c'è niente di più svilente di una situazione del genere e lui qua l'ha reso diciamo chiaro ok l'ha specificato ha esplicito ha reso esplicito diciamo questa questa sua sensazione questo questo elemento quindi senza nemmeno sono belle anche le parole che ho utilizzato senza nemmeno toccarmi questo ragazza mi aveva praticamente tagliato le palle e mi aveva privato di ogni grammo di virilità ora diciamo solo che cosa è successo dopo ha cambiato il corso della mia vita cosa fa qua apre un loop quindi c'è qualcosa che è successo io voglio sapere come cazzo va a finire questa storia però non me lo dice perché e ti racconterò come finisce la storia tra un minuto comunque posso dirtelo adesso dopo quella notte sapevo solo comunque posso dirtelo adesso non mi torno ok comunque adesso posso dirti questa cosa dopo quella notte sapevo di non poter di poter far solo una delle tre cose questo è interessante perché è una sorta di bivio in tre vabbè questo è un bivio per tre strade e di solito si utilizza quando una persona si effettivamente come in questo caso qua quando raggiunge diciamo quando tocca al fondo no quando una persona tocca al fondo in una sex letter perché rappresenta un po' quello che succede nella vita no tocchi il fondo e dici ok adesso devo fare qualcosa per cambiare quindi o continuo così o magari faccio dell'altro che comunque mi porta a rimanere nel fondo oppure faccio qualcosa per cambiare no questo è il tipico bivio che si utilizza prima di introdurre il prodotto perché uno si dice ok ero alla canna del gas e alla fine ho deciso di fare qualcosa ho iniziato a studiare ho iniziato a fare questo quest'altro e alla fine ne ho creato questo prodotto è da qui che te lo presento e di solito si utilizza molto più in fondo nel copy quindi è abbastanza sorprendente il fatto che l'abbiano utilizzato così cioè praticamente nel lead questa cosa del bivio è interessante adesso vediamo come prosegue allora i tre punti sono potevo accettare la vergogna di essere impotente e fingere che non mi dava fastidio rannicchiarmi da una rissa e lasciare la mia ragazza indifesa potevo inchinarmi ai bulli e sperare che mi lasciassero in pace potevo vivere con la paura di sapere che ero inutile in una rissa e potevo accettare la vergogna che i miei cari non avessero protezione da aggressioni violenti allora ragazzi in questo primo punto quello che sta facendo in maniera greggia è rigirare il coltello della piaga in maniera assolutamente elegante perché è indiretta ok se una persona sta guardando questo video è perché deep inside quindi profondamente dentro di loro sentono di essere inadeguati quando si potrebbero trovare in una rissa si sentono insicuri di loro stessi insicuri magari della loro forza insicuri della loro capacità di sostenere una rissa per strada e quindi hanno una paura e quello che lui sta facendo in qualche modo non gli sta dicendo direttamente vergognati oppure provi vergogna di non riuscire a proteggere i tuoi cari oppure hai paura di inchinarti sei stanco di inchinarti ai bulli e sperare che ti lasciano in pace no così sei troppo spudorato cazzo uno ti manda a fanculo mentre qui è lui che sta dicendo ero io che mi trovo in questa situazione così tu accetti quello che lui ti sta dicendo senza alzare diciamo le difese senza sentire che questa persona diciamo sta cercando di manipolarti perché è lui che si sentiva così e allo stesso tempo tu accetti questi fatti e in qualche modo sta toccando qualcosa nel tuo cioè dentro di te sta andando a toccare alcuni tasti che risvegliano un'emozione negativa o che risvegliano il desiderio di liberarti da questa situazione perché ancora una volta sta facendoti sentire il dolore sta rigirando il coltello non la piaga due potrei 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 per come l'ex e la mia ragazza fosse solo un coglione e un bullo potrei lamentarmi potevo lamentarmi di quanto fosse ingiusta la vita e di come non abbia mai fatto nulla questo ragazzo quindi perché mi dava fastidio e questo è quello che c'è il vittimismo potevo essere una vittima oppure potevo fare la scelta che ho fatto la scelta di scoprire la verità su ciò che serve per dominare una rissa è come non avere mai paura di fronte a un bullo o un aggressore violento di nuovo la scelta di stare come guardiano tra le persone che amo e coloro che farebbero loro del male bellissimo essere un guardiano un protettore forse vediamo come l'ho chiamata un guardiano between the people I love and those who would them harm un protettore secondo me sarebbe stato un termine ancora più bello un protettore delle persone che amo e rispetto a coloro che avrebbero intenzione di fare del male è un'immagine diciamo non è semplicemente vinci le risse ok ma è un'immagine diciamo che ti eleva tra le persone che ami ti rende una persona migliore una persona da ammirare perché quasi richiama questo senso di romanticismo legato ai film dove ci sono che ne so tutti quei film d'azione in cui c'è Denzel Washington in cui c'è Tom Cruise tutti questi personaggi James Bond super virili che quello che fanno diciamo proteggere le persone a loro care e massacrano tutti quanti quindi è un po' abbrazzare questa immagine che i film ci hanno trasmesso e questa è una delle ragioni perché secondo me sarebbe veramente figo scrivere per questa legge ma andiamo avanti la scelta la scelta di svegliarmi ogni mattina sapendo di poter affrontare i pericoli in agguato là fuori per le strade di poter proteggere le persone che amo in poche parole quello che sta facendo è decidere di sentirmi sicuro di me ma dire semplicemente volevo decidere di sentirmi sicuro di me è troppo astratto cosa significa che immagine mi crede nella mente non mi crede le immagine ma se tu mi dici queste descrizioni qua se tu mi dici non aver paura di affrontare un buro un aggressore violento essere un guardiano tra le persone che amo e coloro che gli farebbero del male e svegliarmi ogni mattina sapendo di poter affrontare i pericoli in agguato là fuori per la strade e di poter proteggere le persone che amo ok ora sì ora sì che mi fai sentire sicuro di me cioè queste sono immagini pensieri sensazioni di una persona che si sente sicura di sé non è semplicemente ti sentirai sicuro di te no gli dipingi queste immagini e loro da solo da sole giungono a una conclusione che cazzo mi sentirò sicuro di me no perché dire ti sentirai sicuro di te è astratto questo è concreto e questo copywriter è estremamente bravo a rendere concreto concrete le emozioni e le immagini allora andiamo avanti ho giurato di non essere mai più quel ragazzino spaventato non volevo mai più provare quel terrore le gambe di gelatina che mi regge che reggevano a malapena facendo del mio meglio per trattenere le biscele che sembravano essere similatamente trasformate in liquido sudore freddo che imperlava una faccia che bruciava di vergogna bellissimo queste immagini questo è veramente geniale nel dipingere emozioni concrete da quel giorno in poi imparare a combattere è diventato la mia forza trainante per anni ho passato ogni minuto libero in qualsiasi dojo palestra di box di studio di kung fu che potessi trovare sono iniziato un vero tosto sul pavimento di allenamento e indovina cosa ho imparato le mie spese tutte le mie fantasioni e tecniche di arti marziali erano una perdita di tempo ok cosa sta facendo qua sta in maniera sempre indiretta andando a distruggere la concorrenza perché una persona cosa pensa ok se io voglio diventare così bravo sicuro di me devo andare a allenarmi ora al giorno devo fare box devo fare kung fu devo fare krav mag devo fare mille cazzi che io non ho voglia non ho tempo e allora lasciamo perdere ok queste sono le obizioni che hanno le persone mentre lui ti dice guarda io ho provato tutte queste robe sono diventato anche molto bravo quindi non è che te lo sto dicendo perché è come la volpe che non arriva all'uva no no sono intanto molto bravo però non servono un cazzo ok sta distruggendo la concorrenza distruggendo la concorrenza allo stesso tempo aumenta anche il mio interesse in quello che tu hai da dire perché è qualcosa di nuovo sì hai sentito bene vedi dopo anni passati a rincorrere ogni tecnica di combattimento segreta su cui potevo mettere le mani ho deciso che era ora di mettere veramente alla prova le mie abilità per quanto possa sembrare folle e mi sono sforzato in entrare in oltre 600 combattimenti questa è una delle mie parti preferite di queste sales tenendo la gente al sicuro nel bar più squallido e pericoloso della mia città di cui ti parlerò tra un minuto e poi lavorando a fianco di alcune delle unità limitate più elitari al mondo mi sono offerto volontario per ogni lavoro che pensavo mi avrebbe messo in pericoloso è bellissimo questo è un pazzo scatenato no? questo cazzo si è messo di proposito a entrare nei bar per fare a botte con la gente è entrato nelle unità militari solo per il pericolo solo per affrontare il pericolo questo ti fa capire che prima di tutto quello che lui ti insegnerà è qualcosa e non è una commodity non è qualcosa che potrebbe essere da nessun'altra parte perché una persona così ne esiste una ogni 100 miliardi una persona così fuori di testa è una rarità è un'unicità e in qualche modo con questa storia così sopra le righe sta instillando questa sorta di esclusività questo è un prodotto questi sono degli insegnamenti che tu non puoi trovare da nessun'altra parte cioè solo io te le posso dare lui è unico è una persona unica perché chi ha mai sentito di un pazzo scalmanato di questo tipo cioè c'è solo lui fondamentalmente quindi si sta in poche parole differenziando la concorrenza in maniera tremenda con questa storia e ho scoperto una triste verità una triste triste verità avevo intrapreso la lunga strada per imparare a combattere la maggior parte delle cose che hanno funzionato nel delzò sono state un fiasco totale addirittura pericolose contro la violenza reale ho passato quindi il meccanismo e il problema fondamentalmente questa è la ragione ma in realtà non è il meccanismo il problema è semplicemente ancora la distruzione alla concorrenza ho passato anni a imparare cose che non funzionavano e alla fine ho scoperto che ci sono davvero solo una manciata di semplici quasi istintive quindi quasi istintive mette in leva al discorso della semplicità della naturalezza del fatto che non devi farti il culo no è una scelta stilistica strategica di parole strategiche tecniche di combattimento che devi conoscere per confliggere qualsiasi avversario ecco perché condivido questa storia con te non voglio che sprechi tutto quel tempo denaro e sforzi come ho fatto io o peggio non voglio che tu manchi di imparare le abilità che manterrano te e coloro che ti circondano al sicuro quando la merda colpisce il fan quindi quando le cose si mettono male tutto perché pensavi che te ci sarebbero voluti anni per imparare a difenderti la verità è che posso insegnarti in pochi giorni a diventare un combattente pienamente efficace in un incontro violento nella vita reale ecco la promessa ragazzi ok ecco la promessa principale credo di questa pagina di vendita arriva qua quindi in pochi giorni diventare un combattente un combattente efficace e bello che lui fate caso che non è semplicemente essere forte in combattimento saperti difendere il combattimento ricorda sempre che per te e per le persone che ti stanno accanto è come dire un conto è insegnare le persone a fare soldi se tu dici fare soldi guadagni un sacco di soldi chi stai attraendo stai attraendo delle persone che hanno diciamo dei valori più bassi mentre se tu dici guadagni soldi in modo da poter pensare alla tua famiglia in modo da poter dare il miglior tipo di educazione possibile del tuo figlio in modo che la tua famiglia non abbia più alcun tipo di mancanza no? ok adesso stai andando a colpire dei valori che sono più elevati e stai anche coinvolgendo delle persone che magari non avrebbero risposto al messaggio precedente no? perché magari si dicono a me non mi frega un cazzo di guadagnare soldi ma io sto bene così oppure ok mi interessa di guadagnare soldi però un conto è semplicemente diventare ricco guadagnare soldi in generale un altro invece cazzo non lo fai per te lo fai per loro ok? questo senso di altruismo diventare un eroe per la tua famiglia cioè metti in leva delle emozioni che sono molto più forti che semplicemente guadagnare soldi per prendere la cazzo di Lamborghini no? e e questo sta facendo la stessa cosa fondamentalmente il principio è lo stesso quindi questo è importante quando i benefici che voi potete dare alle altre persone che potete promettere al vostro prospect dà in qualche modo beneficio anche alle persone che stanno attorno a lui le persone a cui tiene allora bisogna cazzo spingere lì spingere su quella leva perché funziona meglio di semplicemente parlare dei benefici per lui ok? benefici anche per le persone che stanno attorno a lui posso mostrarti come protegge la tua famiglia i tuoi missi da potenziali aggressori infatti sviluppando queste tecniche nel modo in cui ti mostro ti sembra di scaricarle direttamente ai tuoi nervi e muscoli in un tempo incredibilmente breve ora probabilmente stai pensando quindi se queste tecniche sono così facili e così grandi come mai non l'ho mai sentito parlare prima ecco che inizia a rispondere alle obiezioni chiaramente perché tu mi vieni fuori con tutte queste promesse e le persone hanno obiezioni e lui indica l'elefante nella stanza quindi copywriter chiaramente questo eccellente guarda lasciami essere tutto chiaro qui questi metodi sono mortali sono progettati per sentirti per servirti quando la tua sicurezza e la tua vita sono in pericolo io non posso io non posso ti insegnano come vincere una lotta io non posso insegnarti come vincere una lotta di MMA o passo sul ring oppure vincere una lotta contro un boxer quelle cose hanno delle regole in realtà hai bisogno di passare anni e anni per usare l'arte sottile che ti portano alla vittoria bellissima questa parte ok bellissima perché dice ok non è per queste persone che vogliono questa cosa ma è per quest'altra e se uno sta vedendo quindi non è per chi vuole vincere sul ring è per chi vuole vincere fuori dal ring anzi questo ammette un difetto no è candore sta mettendo giù del candore nel senso che lui sta mettendo proprio io non ti posso non posso arrivare qua però posso aiutarti a fare quest'altra cosa che è quello che tu vuoi perché se no non saresti in questa pagina quello di cui ti parlo però la violenza senza regole sto parlando del ragazzo che ti acceca guardate qua allora bellissima questa parte sta dimensionalizzando i problemi insomma quello che potrebbe quelle situazioni di pericolo gli sta facendo immaginare gli sta facendo suscitare la paura di imbattersi in una situazione di alta violenza e non dite semplicemente ti insegnerò a vincere un combattimento per strada no adesso ti metto degli esempi che adesso li vediamo sto parlando del ragazzo che ti acceca mentre ti lontani dal bank mat il punk che minaccia di picchiare te e la tua ragazza solo per divertimento mentre esci dal cinema lo stronzo che vuole prenderti a pugni perché sta passando una brutta giornata e tu hai appena sbattuto la sua macchina per in un paraurti o peggio un fender bender nell'incrocio più pericoloso del mondo il holy fuck circle Kabul Afghanistan ti racconterò questa storia tra un minuto quindi resta qui ne vale la pena guarda non ci sono regole per cose del genere devi fare quello che devi fare per vincere scappare perché credimi il cattivo non ci pensa due volte a combattere sporco ti racconterò tutto del semplice sistema di combattimento in cui sono incappato in un minuto bello anche il sistema di combattimento in cui sono incappato non è un combattimento che ha studiato no si è imbattuto quindi questo crea ancora più curiosità per prima cosa lascia che mi presenti quindi ciao mi chiamo John Black e qui inizia diciamo potrebbe essere la fine del lead e c'è l'introduzione diciamo dell'autorità della persona la presentazione e prima c'è stata tutta questa parte qua in cui si sono fatte le promesse il contenuto questo è un pezzo che mi sta divertendo un sacco ragazzi non so voi ciao mi chiamo John Black senti non è il mio vero nome ok vedi sono ancora in servizio attivo e vengo schierata bella anche questa parte qua che non è il mio vero nome vedi sono ancora in servizio attivo qua ci sono le sue immagini con la faccia oscurata bellissima questi avranno contattato sicuramente un'agente speciale magari che conoscevano e gli hanno proposto dei soldi per fare questa roba che fenomenale sono dei geni vedi sono ancora in servizio attivo e vengo schierata in alcune delle aree più pericolose del mondo quindi darti il mio vero nome oggi metterebbe sia me che i miei fratelli in un pericolo molto reale quindi anche se un giorno condividerò assolutamente la mia identità con te per oggi sono giorno e ho una domanda molto semplice per te puoi permetterti di mettere te e la tua famiglia nelle mani di qualcuno la unica esperienza e prendere a calci e pugni bersagli di schiuma bella questa cosa qua qua sta andando a distruggere la concorrenza quindi e poi è bello come lo mette sempre in maniera concreta non è semplicemente vuoi affidarti per imparare a combattere vuoi affidarti a queste persone qua che insegnano sole eccetera eccetera no puoi permetterti di mettere te e la tua famiglia ancora una volta nelle mani di qualcuno alcuni che esperienza è prendere a calci e pugno bersagli di schiuma ascolta la violenza nelle strade è al culmine di tutti i tempi persino le proteste pacifiche si stanno trasformando in folli cazze le streghe in cui le persone normali diventano aggressori psicopatici invasori domestici saccheggiatori criminali comuni sono in agguato dietro ogni angolo questo ragazzi risuona particolarmente in questo momento qua insomma che col covid con le proteste che ci sono state alcuni mesi fa in America eccetera eccetera quindi è un pain point reale un dolore reale per queste persone i poliziotti non possono essere ovunque contemporaneamente per salvarti le forze di polizia stanno affrontando la diminuzione delle risorse le vittime stanno raggiungendo numeri record quindi qua ancora una volta resi raccolta non ha la piaga uno può dire cazzo però c'è la polizia che dovrebbe pensare a salvarmi no la polizia non basta questo è il motivo per cui sto correndo un rischio qui e dandoti l'opportunità di vedere questo sistema di combattimento in azione in una forma completa e non censurata a cui pochissimi avranno accesso vedi come ho detto dato che sono ancora un militar attivo non dovrei condividerlo tuttavia è troppo importante mantenere lo segreto più lungo ancora teasing ho bisogno di condividerlo ora così tu e ogni altro uomo di questo paese potete sperimentare la vera fiducia tranquillità sicurezza e protezione perché non voglio che tu ti senta come quel ragazzo di 17 anni rannicchiato impotente mentre la sua ragazza si prende cura della situazione del cazzo non voglio che tu metta a rischio la tua famiglia perché ti mancano le capacità di tenerla sicuro guardate com'è bello come metti in leva la vergogna l'imbarazzo in maniera sempre elegante perché io non è che mi sento attaccato mentre lui mi sta dicendo queste cose no non è che mi sta dicendo non sei stanco di essere questo tipo di persona no io non voglio che tu sia questa persona non voglio quindi una persona che tiene a me e questo mi fa sentire in qualche modo bene ad ascoltarlo questa è una persona che si tiene a me mi piace ascoltare persone che tengono il mio benessere non è una persona che semplicemente vuole vendermi qualcosa cioè si sente che ecco questa è una cosa molto importante non c'è diciamo una distanza tra il copywriter o comunque lo speaker diciamo e la persona che c'è dall'altra parte cioè quella persona che c'è cioè lo speaker sta parlando direttamente con la persona dall'altra parte mentre spesso nel copy quello che si rischia di fare è parlare in maniera diciamo troppo manipolatoria troppo finta troppo da vendita quindi sembra che c'è una barriera tra te e il tuo cliente ok quindi ci sei tu che parli c'è una barriera e poi c'è il tuo cliente quindi le frasi vengono sempre che ne so cioè non stai parlando di una persona reale si percepisce quando qualcuno te lo legge cioè si percepisce che si vabbè questo in realtà non gli frega un cazzo di me questo in realtà vuole solo vendermi la sua merda non è interessato al mio benessere veramente ok non c'è quella quell'empatia non si crea quell'empatia mentre quello che sta facendo questo copywriter è esattamente il contrario è in grado di creare questa empatia cioè mi sento capito mi sento rassicurato da queste parole mi sento rassicurato da lui quindi voglio continuare a leggere quindi andiamo avanti ora non crederai quello che è successo dopo che la mia ex ragazza ha chiamato la polizia meraviglioso come continua con questo teasing cioè mi tena agganciato voglio sapere cosa è successo e continua a fare teasing vediamo un po' sono cresciuto in una piccola città quindi la polizia è arrivata in pochi minuti ma hanno mandato un poliziato solitario per controllare la chiamata sono stato sollevato di vederlo rotolare nel suo incrociatore che cacchio significa si roll up in his cruiser quindi sono stato contento di vederlo arrivare con la sua con la sua auto fondamentalmente sono uscito sul prato per guardare il poliziotto dare a questo delinquente quello che gli stava succedendo quello che gli sta quello che gli sta succedendo ok quindi volevo praticamente guardare il poliziotto dare al godenquente quello che si meritava poi il cuore mi è balzato in gola e mi sono quasi cagato addosso quando la prossima la cosa successiva che ho saputo è che il poliziotto è stato steso sul cofano della sua auto l'ex fidanzato lo prendeva per la gola e gli dava uno schiaffo e rideva di lui la mia faccia si è ghiacciata le mie mani hanno iniziato bellissimo questa parte qua non è ho avuto paura ragazzi attenzione non è mi sono spaventato la mia faccia è diventata agghiacciata le mie mani hanno iniziato a tremare e non ho potuto fare nulla per fermarle la mia mente è andata dritta all'inevitabile io sdraiato in un letto d'ospedale questo stronzo che si fa strada con la mia ragazza alla fine il poliziato si divenne libero eppure invece di usare il suo spray il peperoncino il bastone la pistola qualche tecnica segreta della polizia per abbattere questo tizio è saltato sulla sua auto e ha chiuso le porte è il che è lasciato un delinquente a passeggiare lungo il viaretto verso di me la mia ragazza ha preso il suo tempo stavo solo ridendo e dicendomi come mi avrebbe messo in ospedale ridendo che significa ha preso ah ok ha preso si è preso tempo si è messo a ridere e a dirmi come mi avrebbe messo mandato in ospedale stasera e dopo aver scopato la mia ragazza le mie ginocchia tremavano bellissimo come sta rendendo vivido questo racconto come ti coinvolge perché non diciamo non parla solo delle emozioni non è che racconta le emozioni non è che dice le emozioni ma va proprio a fondo cioè inizia a descrivere le scene dipinge come se fosse un film dipinge ogni singolo dettaglio in modo che tu percepisca che lui ha paura senza che lui dica che ha paura ok questa è la cosa incredibile lui non mi sembra che abbia nemmeno detto che aveva paura però in questa descrizione così diciamo vivida cioè tu lo sai che questo cazzo si sta cagando addosso no e andiamo avanti le mie ginocchia tremavano riuscivo malapena a tenermi in piedi proprio vivido cazzo ho dato alla mia ragazza di entrare in casa e chiudere la porta e io rimasi lì impotente preparandomi a prendere un pestaggio sapendo che non avevo niente nessuna abilità nessuna esperienza niente per impedire a questo ragazzo di rompermi i denti ok qui ancora una volta scavano il problema ok gli fa proprio gli fa mettere il pro quindi lo spettatore noi si fa mettere all'interno dei panni di questa persona che noi fondamentalmente se stiamo guardando questo video probabilmente abbiamo poco nessuna abilità poco nessuna esperienza e niente per impedire che un assalitore grosso e potente agguerrito ci spacchi i denti fondamentalmente quindi cazzo ci toglie il fiato siamo noi lì con lui cosa avremmo ci chiediamo in maniera inconscia non è detto conscia ma anche inconscia cosa avremmo fatto in quella situazione andiamo avanti poi proprio mentre si avvicinava abbastanza da farmi sentire l'odore della birra addosso ancora una volta i cinque sensi fate caso come utilizzo i cinque sensi l'odore della birra addosso arrivarono i rinforzi del poliziotto e con luce la penciata i sireni collulavano sono letteralmente crollato in ginocchio per il sollievo mentre il delinquente si è fermato di colpo ha guardato la polizia mi ha guardato e ha detto a bassa voce ci vediamo più tardi ragazzo bellissimo poi casualmente salì sul suo pick up feci girare l'erba e si allontanò sono sfuggito un pestaggio sulla pelle dei miei denti allora ero impotente non ora però se solo potessi tornare indietro sapendo quello che so ora avrei passare solo 5 minuti con quel 17enne spaventato avrei potuto mandarlo fuori da quella porta a battere a morte a picchiare a morte quel bullo senza sudare quindi solo 5 minuti questo è bello solo 5 minuti con quel 17enne e l'avrebbe massacrato quindi è una dimostrazione drammatica fondamentalmente credimi non hai bisogno di anni addestramento speciale per padronizzare queste mosse di combattimento quasi istintive una volta che te le mostro diventeranno una seconda natura quindi ancora metti in live la semplicità probabilmente queste persone cioè questo copywriter questa azienda si sta rivolgendo a persone di una certa età questo è quello che oppure persone che non sono attive fisicamente questo è quello che mi dà l'idea perché parla sempre di non sono difficili sono una seconda natura non sono complesse probabilmente questo è il loro target quindi persone di una certa età o persone che sono anche perché effettivamente c'è una persona che va in palestra che cazzo è un po' piazzata magari non è così spaventata diciamo di una rissa mentre una persona magari più mingherlina magari che a una certa età inizia a sentire di più questo peso questa pressione quindi è abbastanza naturale effettivamente che si rivolga a questo tipo di persone e ti chiederai perché pensavi che l'idea di litigare di combattere fosse così spaventosa ho insegnato numerosi ragazzi in tutto il mondo a farlo tutti dai ragazzi senza alcune esperienze di combattimento alcuni degli operatori delle forze speciali più elitari al mondo agli ufficiali delle forze dell'ordine che tutti pensavano di sapere come combattere tuttavia quando vedono cosa potrebbe fare il mio sistema sono tutti d'accordo ogni volta questo è il sistema di combattimento assolutamente più semplice che può fare affrontare qualsiasi uomo a qualsiasi situazione con calma e sicurezza negli occhi con la calma sicurezza dagli occhi d'acciaio di un combattente esperto belle immagini mi ci sono volute meno di 6 ore per aiutare il mio amico e collega Todd Lamba a padronizzare il mio sistema di combattimento che ora chiamo combat fighter durante un recente viaggio a casa sua allora fermiamoci un attimo cosa ha fatto qua questa è una cosa interessante perché ha tirato fuori un'altra storia adesso di solito non si fa nel copy perché si parte con una storia e si racconta solo quella però in questo caso è particolare perché la storia che lui ha raccontato non è che ha un lieto fine è una storia che ha triggerato questa sua scoperta non è che sia stata una rivincita non è che sia stato lui che poi è andato a picchiare il tipo dopo aver scoperto questo sistema non c'è niente di tutto questo è semplicemente lui che si è cagato addosso e da quel momento ha deciso di cambiare fondamentalmente di imparare l'arte del combattimento e quindi diciamo che non è una storia se vogliamo ideale per portare alla creazione di un prodotto però è una storia ideale per partire con una sales letter quindi per questa ragione vedo adeguato il fatto di aggiungere un'altra storia adesso vediamo poi quanto va in profondità o altre micro storie per diciamo dare la dimostrazione che questo suo metodo di combattimento che ha già introdotto questo è il prodotto che lui venderà al combat fighter però ancora non si capisce che lui venderà questo prodotto cioè solo diciamo il sistema un sistema di combattimento suo che sembra che ti insegnerà ancora non non ci sono accenni al fatto che ci sarà una vendita niente di tutto questo e quindi inserire altre micro storie per dimostrare che questo metodo effettivamente funziona per persone non so normali come come mete fondamentalmente questa è una cosa che aiuterebbe la credibilità di questa sales letter di questo prodotto quindi vediamo come continua questo ragazzo un ex militare ha trascorso 17 anni in SWAT quindi ha visto di tutto tuttavia una volta scoperto il potere di combat fighter ecco cosa mi ha detto non riesco a credere a quante ore della mia vita ah questa cassa è la citazione è la citazione che c'era nell'ad ve lo ricordate non riesco a credere a quante ore della mia vita ho sprecato in addestramento al combattimento avrebbero potuto mostrarvi queste cose nel mio primo giorno di lezione di base di tutto ciò di cui mai ho avuto bisogno è così semplice che una scibbia potrebbe impararlo Todd Lam interessante l'ha messo qua senza citare che fosse una forza di polizia a dare questa citazione non so perché l'hanno fatto forse per non sollevare obiezioni del tipo eh vabbè questo è un prodotto solo per persone che sono dei combattenti speciali non è una roba per me forse per questo l'hanno messo però da un altro punto di vista avrebbe dato credibilità quindi quindi non saprei vabbè andiamo avanti ascolta il semplice quindi non era una storia fondamentalmente solo una citazione per aumentare la credibilità ascolta il semplice sistema che ho perfezionato mi si sono voluti anni per capire per capirlo ho cercato di ho cercato e assorbiti i segreti di combattimento insegnati solo una manciata di elite di struttori chiamati ad estrare le unità operative speciali più alto livello di tutto il mondo queste sono le tecniche utilizzate dei SEAL e dalla Delta Force degli Stati Uniti dalla SAS Britannica dalla JTF2 canadese dalle forze speciali israeliane dal Tactical Assault Group australiano da ogni altra unità operativa di livello 1 di tutto il mondo di primo livello di tutto il mondo e ho passato innumerevoli ore a testare ogni tecnica e forgiare solo le più semplici ed efficaci in unico sistema facile da patronizzare qua inizio ad entrare nel pitch questo sistema è stato ora testato in battaglia ad entrambi civili con zero esperienza e soldati in carriera induriti e funziona semplicemente e semplicemente funziona prendiamo ad esempio queste parole dell'ingraziamento che risulta dal sergente maggiore eccetera eccetera e qua c'è una testimonianza che adesso non leggiamo diventa un combattente capace in ore invece di anni questa è la promessa un combattente capace in ore anziché in anni e sebbene ora ci siano voluti anni per professionare questo sistema mi si vogliono letteralmente solo ore per mostrarlo a qualsiasi uomo con la volontà di imparare prometto che posso renderti un combattente molto molto capace usando queste tecniche passo passo in un singolo fine settimana se ti apprichi in un singolo guardate che cazzo è una promessa grossa questa cioè un singolo fine settimana diventa un combattente un combattente molto capace ad esempio imparare rapidamente il centerline strike istintivo comunistico ok qua ci sono i bullet point qua iniziano i bullet point del prodotto che non sono tanti di solito se ne mettono una decina qua sono 1,2,3,4,5 6 7 7 fondamentalmente 7,8 poca roba poca roba forse perché ha già creato sufficiente teasing allora non ha necessità di andare troppo nel dettaglio con i bullet point però vediamo che cosa che cosa ha creato il centerline strike istintivo come un istinto quando il dottore mette alla prova i tuoi riflessi che stordirà o addirittura sì vabbè che stordirà o addirittura credo farà svenire il tuo avversario all'istante in modo che tu possa ritirarti rapidamente fai attenzione però perché se non lo fai nel modo in cui ti insegno puoi effettivamente causare la morte sti cazzi bella questa cosa è un falso disclaimer questo è quello che si chiama falso disclaimer c'era una size letter bellissima in cui c'era un titolo del tipo attenzione se questo prodotto se dopo una roba del tipo se dopo un'ora la tua erezione se dopo un'ora la tua erezione non è passata allora contatta il dottore un prodotto per vendere chiaramente un prodotto che c'è una una promessa per vendere un prodotto chiaramente sulla disfunzione erettile una persona che ha problemi con l'erezione tu gli dici cazzo se dopo un'ora la tua erezione rimane allora contatta il dottore chiaramente non è una cosa reale che queste persone avranno erezioni più di un'ora però cercare di prepararli per una situazione diciamo sconveniente cioè cercare diciamo di trovare un difetto del prodotto nella troppa efficacia allora in qualche modo aumenta la credibilità del prodotto della promessa questa è quella che sta facendo quindi sta trovando un difetto nella troppa efficacia se non lo fai in modo che il disegno può effettivamente ammassare questa strategia il non ortodosso blitz blast che è una raffica devastante progettata per sopraffare il tuo versare in nanosecondi il metodo force hijack che attinge i riflessi del tuo corpo per di vero sfruttare la forza del tuo aggressore contro lui meraviglioso come questa è una lezione importante sono tutti mini meccanismi questi sono tutti mini meccanismi non sono come fare x senza y cosa significa mini meccanismi significa che lui ha dato un nome a ogni singola tecnica e ha dato nomi che sono che suscitano curiosità non è semplicemente una strategia istintiva per oppure una tecnica che è una raffica devastante progettata no gli ha dato un nome per aumentare la curiosità il fascino e questa è una bella lezione questa è una bella lezione da mettere in pratica quindi il metodo force hijack non è il metodo che attinge i riflessi no no il metodo force hijack gli ha dato un nome quindi sono mini meccanismi questo aumenta in maniera esponenziale il fascino di queste strategie guardate che dappertutto cazzo l'ha fatto i metodi surgical strike come underhand ocular control che travolgono immediatamente il tuo aggressore attraverso massigli disturbi neurologici non importa quanto siano disciplinati questi sono particolarmente efficaci contro un avversario più forte perché richiedono pochissima forza il principio one and done che rende la vittoria del combattimento semplice e praticamente inevitabile rimuovendo tutte le tecniche complesse che la maggior parte degli istruttori di combattimento cerca di insegnare ai propri studenti invece ti insegnerò riconosce gli istantaneamenti i tuoi versari un bersaglio più vulnerabile è reagire con una risposta unica istintiva e travolgente e questo è solo l'appunto dell'ice quando ho appena tempo di parlarti di eccetera eccetera qua ci sono altri bullet point molto altro ancora tutte le cose che realmente funzionano perché più volte stato tristato in trincea ricordi come ti ho detto che mi sono sforzato ad entrare in oltre 600 combattimenti per forgiare un metodo di combattimento che funziona davvero nella vita reale ok qua richiamo quella parte assurda ben prima prima di entrare nell'esercito mi sono trovato un lavoro come buttafuori quindi diventano come come la buttafuori però è bello cazzo alla fine c'è la credibilità di un buttafuori lui poteva dire sono stato un buttafuori per due anni ok un buttafuori per due anni questo è il metodo ordinario di dire la cosa il metodo straordinario di un copywriter con due palle grosse come una casa di questo che ha scritto questo pezzo è ho partecipato 600 combattimenti cioè alla fine stai dicendo la stessa cosa ho fatto il buttafuori per x anni sappiamo che quando fai il buttafuori insomma ti butti nelle risse perché devi fermarle quindi per non conto dire un buttafuori cioè un buttafuori niente di straordinario non conto dire cazzo ho partecipato a 600 combattimenti pensate il peso cazzo che ha questo tipo di affermazione incredibile ho lavorato con un buttafuori nel bar più duro e squalido della mia stità un posto in cui mi era praticamente garantito di mettere alla prova le mie capacità almeno una volta a turno mi sono sforzato di continuare a fare quel lavoro fino a quando i miei nervi pre combattimento sono semplicemente scomparsi una volta che le mie gambe smisero di tremare ogni volta che anticipavo l'inizio di un altro combattimento sapevo che avrei potuto finalmente andare avanti quindi ragazzi all'inizio sembrava come se fosse questo che si buttava nelle diciamo nelle risse che era una sales letter che ricordo di Gary Albert che raccontava una roba del genere che c'era questo tipo pasto dalle gare oh ho giocato non ricordo pasto dalle gare che andava nei bar proprio a cercare le risse e quella è una sales letter meravigliosa old school in questo caso invece lui era semplicemente un buttafuori è bellissimo il modo in cui è romanzato però le cose guardate ragazzi questa è verità detta bene dimostrazione drammatica di questa tecnica in pratica e quello è stato il primo banco di prova per l'abilità che ora sono alla base del mio sistema di combattimento vedi non importa quante abilità di fantasia ho provato si trattava sempre di una manciata di tecniche semplici quasi istintive che garantivano ogni volta la vittoria quindi sottolinea sempre il semplice quasi istintivo non devono farsi il culo le cose fantasiose finivano così sempre con me che allattavo il naso sanguinato che va mi tamponavo il naso sanguinato peggio ho la vergogna di essere stato salvato da una dei miei compagni butafuori quindi solo le tecniche più brutali efficaci e semplici sono sopravvissute a quei campi di prova uno dei miei preferiti è il metodo di strike così semplice eppure mi ha salvato la vita nel holy fuck circle di Kabul di cui parlerò un minuto ancora una volta guardate che bello ragazzi molti copywriter ho preso me non fanno teasing dopo il lead molti copywriter fanno il teasing solo all'inizio nel senso ti parlerò di questo 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 ma prima di farlo lascia che mi presenti quindi ti presento e ok adesso entro nella storia e poi non ci sono più teasing o se ne sono molti pochi però in questo caso questo copywriter invece che è estremamente abile si ricorda che i loop vanno costantemente inseriti nel copy cioè una persona deve sempre stare lì ad aspettare quello che verrà dopo e quindi chiudi un loop ne apri un altro un loop è praticamente iniziare a dirgli qualcosa e poi dire continuerò a pitardi qualcosa di eccitante chiaramente e in questo caso è meraviglioso come l'abbia fatto perché prima aveva tirato fuori questa storia di Kabul e aveva detto te la racconto tra un minuto e adesso di nuovo mi ha salvato la vita in questa holy fuck circle di Kabul e ti parlerò tra un minuto di questa storia e continuo a mantenere agganciato il prospect in questa maniera qua da manuale per prima cosa una domanda per te lo senti il tuo cuore battere la secchezza in bocca quell'incredibile desiderio di sapere questo di essere in grado di fare queste cose di avere questo potere di possedere questa incredibile fiducia di avere il controllo della tua vita in un modo che non hai mai avuto prima lascia che ti chieda quanto vale per te non provare più paura della violenza per il resto della tua vita quanto vale per te avere i tuoi amici gelusi della straordinaria impavidità che deriva dalla tua abilità che hai acquisito implorandoti di insegnare loro i tuoi segreti secondo me questo è un pochino un pochino sopra le righe questa parte è un po' anche swipata anche questa di Chris Haddad cazzo l'hanno swipata in non so quante persone loro ho visto diverse loro 6 letter che sono sempre questa parte identica così quindi secondo me perde un po' di punti soprattutto qua è un po' esagerata sopra le righe cioè un po' esagerata diciamo però vabbè nel complesso cioè 10 è lode nel complesso quindi questa roba qua sono dei piccoli screzzi che non dicono praticamente nulla e qui è interessante ragazzi una cosa che cioè di solito prima di arrivare al prezzo perché qui quale pensi sarebbe il prezzo equo per sapere con certezza bla 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 prima di arrivare al prezzo di solito si può che non so si presenta l'immagine nel prodotto cioè è chiaro che si entra in un pitch e infatti se noi guardiamo gli analytics quando si presenta il prodotto la gente sa ok questo mi vuole vendere qualcosa e lascia il video questa è una roba che ho visto in maniera abbastanza drammatica nelle mie 6 letter ma in questo caso cazzo lui cioè noi lui è entrato nel pitch ragazzi non ce ne siamo praticamente resi conto noi no? cioè non c'è immagine del prodotto e lui sta solo parlando del suo metodo di combattimento adesso di punto in bianco inizia a dire ok quanto vale una roba del genere che prezzo ha però ancora cioè non c'è quella sensazione di questo mi sta cercando di vendere qualcosa questa è la cosa figa che sta facendo questo copywriter che secondo me ha da insegnare cazzo ha da insegnare perché se vado a leggere i miei pezzi per esempio c'è questa transazione un pochino più brusca cioè si sente di più cazzo ok si entra in modalità pitch adesso non è così esplicita diciamo però in questa maniera è super naturale ok figo molto molto bravo quanto vale a non sentirsi più costretti a ranicchiarsi o nascondersi da un bullo bello è sempre che tira fuori questa immagine immagina per un secondo lasciati davvero sentire come sarebbe e poi dimmi quale penso sarebbe un prezzo per sapere con certezza che puoi perdere te stesso e i tuoi cari e ottenere il controllo assoluto su bulli criminali che intendono farti del male e qui chiaramente non parla di quanto costerebbe il mio prodotto quale serve un prezzo eco per questo prodotto ma un prezzo eco per tutti questi benefici chiaramente il prodotto deve essere trasparente cioè nel senso il prodotto deve essere qualcosa che se tu lo guardi vedi i benefici che puoi ottenere non è che tu guardi vedi il dvd o vedi le book vedi le 50 pagine vedi 300 video non è così cioè quelle sono le caratteristiche tu non devi vedere quello cioè il prospect non deve vedere quello il prospect deve essere capace di vedere i benefici che quella roba li porta quindi in questo caso certezza che puoi proteggere te stesso i tuoi cari eccetera eccetera fateci caso non ha menzionato nemmeno per un secondo il formato di questo programma cioè non si sa se i video se è un ebook quante pagine quanti video quanti minuti non si sa niente sono bonus no 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 mi parla semplicemente il beneficio finale perché è così che si deve fare non è che bisogna concentrarsi sulle caratteristiche non frega un cazzo a nessuno le caratteristiche di un prodotto le persone interessano i benefici non le caratteristiche se sei completamente onesto con te stesso scommetto che diresti 197 dollari o più sarebbe totalmente giusto per provare questo tipo di fiducia sapere che il potere di far pagare qualcuno per averti minacciato farla pagare a qualcuno per averti minacciato senza mai passare anni in in anni di apprendimento in un gioco oppure fare i cattà a diavolo scommetto che penseresti che fosse economico non doverti mai più sentire spaventato codardo per il resto della tua vita bello come diciamo va a toccare sentimenti profondi voglio dire 197 dollari sono un sacco di soldi ma considerando come questo cambierà la tua vita sempre finalmente ti darà completa sicurezza di te stesso in modo da poter passare il tuo tempo vivendo la tua vita invece di guardarti alle spalle e chiederti cosa potresti fare se qualcuno minacciasse i tuoi cari beh se la guardi in questo modo sembra abbastanza abbordabile non è vero eppure dopo più di 20 anni nell'esercito facendo tutto il possibile per servire e proteggere i miei simili sia un fatto innegabile che ho imparato più e più volte che anche quando vuoi qualcosa così tanto e sai che è un affare una volta nella vita come un uomo che ha passato così tanto dare la tua vita proteggere e dare agli altri a volte sembra impossibile essere egoista e considerci ciò di cui disperatamente bisogno ecco perché farò qualcosa di rischioso qui non è rischioso per te ma è un grosso rischio per me quindi la mia missione è aiutare ragazzi come te a mettere bulli criminali al loro posto anche se solo significa rivelare questo sistema a uomini civili di tutto il mondo con grande rischio per me stesso mi rendo conto ora che questo è il percorso che ho intrapreso in quella fatidica notte tanto tempo fa quando ho preso la decisione di imparare la cortesia per me stesso e le persone non sono intorno a me e se devo rischiare tutto per aiutarti a fare lo stesso beh questo è un prezzo che sono estremamente felice di pagare quindi ecco cosa farò abbiamo già convenuto che il combat fighter system vale almeno 197 dollari quindi qua c'è tutta la giustificazione del prezzo bla 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 non ti chiederò questo ti chiederò quest'altro solo 37 dollari che è un buon prezzo qua ok qua prima immagine del prodotto ragazzi prima immagine del prodotto è una serie di video giunge il carrello questa è la buona notizia vabbè poi dopo abbiamo garanzia adesso questo non leggiamo che secondo me è meno importante ah ecco figata la storia di cabula ora vediamo qua la messa dopo il prodotto ragazzi cioè questo è molto interessante cazzo cioè io normalmente quello che faccio è chiudere ogni tipo di loop prima di arrivare al prezzo alla presentazione del prodotto perché io voglio che sia solo focalizzato lì che quando c'è il momento di comprare lui non abbia altri cazzi per la testa deve comprare non deve fare nient'altro però la vedo molto intelligente questa sua strategia perché comunque cioè uno cioè se vuole comprare compra no se è interessato a comprarlo compra perché magari si aspetta che quella storia la trova all'interno del programma e compra però se una persona magari ancora lì che non è molto convinta qui abbiamo un tracollo di persone che lascerà la pagina ok perché vede che c'è qualcosa che si deve acquistare quindi non è interessato a mettere mani al portafoglio c'è la garanzia va bene figo però insomma magari non sono così interessate ma se tu l'intrattieni con un'altra storia che emetti alla fine di tutto questo della garanzia che di solito è la parte che genera più vendite mi sembra estremamente intelligente per dare una scossa finale alle persone diciamo che ancora non hanno acquistato vediamo come racconta questa storia ricorda quello che sta a imparare è ciò che mi ha salvato la vita nel ciclo sacro del holy cycle orifax quello che è di kabul gestivo un dettaglio di protezione ravvicinato operando in città e nei suoi dintorni in misurma eravamo in movimento con il nostro toyota land cruiser con blindatura superiore stavamo percorrendo la rotatoria più folle e pericolosa del mondo chiamata affettuosamente agli operatori holy fuck circle le sue 12 corsie di traffico sono bloccate in uno spazio sui corsie popolato di asini carri motociclette ogni sorta di auto che si sprintonano per lo spazio senza alcun senso di ordine o regole equazione immagine gli incidenti erano inevitabili e quel giorno era il nostro giorno fortunato ci siamo scontrate con una toyota corolla e diciamo solo che il nostro land cruiser ha vinto la giornata in pochi secondi siamo stati circondati da centinaia di afghani arrabbiati seguendo la procedura sono sceso dal camion senza la mia lunga pistola da solo nella speranza di arrivare la situazione ho dato al guidatore una carta di emergenza scritta in pashtu che indicava come essere rimborsato per i danni ma le tensioni e le emozioni erano semplicemente troppo alte prima che me ne rendessi conto ho sentito le mani su di me che mi tiravano via dal nostro pick up avevo le dita sporche agganciate alla bocca le mani sul viso e le persone che mi tiravano il petto e la cintura fu allora che la mia formazione iniziò distinto senza pensarci il metodo di strike praticamente fluì da me e nel guidatore arrabbiato ho sentito il suo naso andare in poltiglia ed esplodere dietro il mio pugno i suoi occhi si sono aperti per lo shock che l'intera folla è rimasta senza fiato e ha fatto un passo indietro quando hanno visto il sangue che colava dal naso e dalla bocca dell'afgano ho colto l'occasione mi sono girato e sono stato sul camion ho chiuso la porta e chiuso a chiave alle portiere e ho ordinato al mio autista di guidare 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 nei miei due anni di attività in tutta l'Afghanistan sono stato coinvolto in scontro a fuoco ho perso amici sono stato quasi fatto saltare in aria più volte di quanto ne possa contare ma sono certo che quel singolo momento circondato da una folla inferocita è il momento più vicino a cui sono arrivato a morire senza la calma sotto stress la fiducia che ho sviluppato attraverso il combat fighter system posso dire onestamente che non ce l'avrei fatta bellissima questa storia cioè figo guardate ragazzi il potere di una storia come si tiene agganciati a scoprire come va a finire cosa succede soprattutto se sono storie così ad alta tensione come questa d'azione molto figa ha deciso di non partire con questa storia perché chiaramente è la storia di vergogna di imbarazzo di impotenza questo genere di storie così negative sono più efficaci rispetto a castero già un cazzuto fighter agente delle forze speciali eccetera eccetera fa molto più presa la storia che ho utilizzato però comunque risoccarsela questa per un email e anche per questa seconda parte è assolutamente utile ok per questo ho creato questa pagina per te questa fiducia in te stesso voglio che più di ogni altra cosa tu senta la pace personale di sapere che le abilità istintive entreranno in azione quando non avrai bisogno quindi metti in leva a questo discorso dell'istinto che tu possa essere lo scudo per proteggere i tuoi cari dalla violenza meraviglioso lo scudo che protegge i tuoi cari dalla violenza bella questa immagine e il comodafidersteam te lo darai in pochi giorni tutto quello che devi fare è cliccare sul buttone in basso bla 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 se non sei ancora convinto qua entra nei bonus 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 esci ora eccetera eccetera qua fa un ricapitolo ecco cosa c'è per solo i 37 dollari bivio quindi ancora non lo sai c'è solo due opzioni davanti a te una vita di fiducia orgoglio e potere l'altro la continuazione della tua vita come ti sentiresti di io non voglia domani la prossima settimana o anche tra tre anni trovassi una situazione in cui la vita della gente dipendono da te e ti rendi conto che sapessi che se avessi intrapreso quel comodafider system potresti essere stato il loro angelo custode bella bella ok qua continuo al bivio aggiungi il carrello ottieni ogni singola cosa che puoi parlare quindi cazzo spinge sull'acceleratore di brutto quasi non è semplicemente compra no boom guardate com'è come martella cioè abbiamo ha introdotto il primo bottone d'acquisto qua circa metà fasina guardate qua boom 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 guardate le martellate che da se proprio cioè è come se viene a tira tira a forza tutte le persone che sono lì attaccate al mondo non voglio acquistare il prodotto lui cazzo li prende si attacca e li trascina vedi forza devi comprare questo cazzo di prodotto cioè martella in maniera così pesata quello che mancano qua sono le FAQ le FAQ dal mio punto di vista avrebbero aumentato le conversioni aumentano sempre le conversioni le FAQ lui non ha utilizzato le conversioni allora andiamo a vedere il carrello e poi andiamo a vedere anche la sequenza di upsell allora claim your discount now quindi ottieni il tuo sconto adesso c'è l'immagine dei prodotti fa che succede clickbank prezzo del prodotto dislessiva dei contenuti esclusivi bla 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 si non c'è una bump non c'è niente fondamentalmente solo solo un carrello normale 60 day no hassle money bag guarantee qua c'è un po' un ricapitolo niente di speciale nel carrello andiamo a vedere invece gli upsell allora questo è l'upsell numero 1 questo è il più importante upsell in assoluto ragazzi il primo upsell la prima offerta che voi fate dopo la prima transazione perché chiaramente un prodotto di 37 dollari sono pochi soldi se tu vuoi starci dentro e vuoi scalare questa offerta e fare tanti clienti migliaia di clienti possibilmente come loro credo che riuscirebbero a fare senza difficoltà onestamente se volete fare migliaia di clienti per un'offerta a 37 dollari è difficile perché i costi aumentano quindi dovete mettere aggiungere delle offerte in modo che anziché darvi 37 dollari con tutte le offerte di back end magari questa persona arriva a darvi 100 dollari ok si parte da un mediamente chiaramente si chiama OEV quindi la transazione media si parte 37 dollari poi si aumenta questo è l'upsell cosa notate di interessante io noto qualcosa di assolutamente interessante che questa è una pagina ragazzi questa è una pagina però cosa sembra sembra un pop up questa sembra un pop up non sembra una pagina però questa in realtà è la pagina di grazie nel senso una persona completa all'ordine e atterra su questa pagina che con una volta sembra un cazzo di pop up io l'ho visto utilizzare più volte questa strategia e prima o poi la voglio provare anche io cazzo perché perché figa anche se è un diciamo un format un po' strano per un cioè nel senso è molto diretto al dunque normalmente gli upsell che vedo funzionare meglio sono quelli lunghi nel senso video di 20 minuti tipo questo invece è una pagina che si crea al volo e è anche affascinante cazzo perché chiaramente quando si possono fare le cose fatte bene in poco tempo è una figata pazzesca quindi questo sembra di sì cazzo almeno di una pagina di copi vediamo cosa dice benvenuto nel tuo portale di combattenti di combattenti non mi ricordo qual è la traduzione però beh seleziona le tue opzioni di personalizzazione completa il tuo ordine conferma la tua iscrizione gratuita Alphanation come promesso con il tuo acquisto sono inclusi 30 giorni di accesso gratuito al servizio premium Alphanation hai anche assicurato il tuo abbonamento mensile al preso scontato di soli 47 dollari al mese 30 dollari di sconto sui normali 79 al mese se scegli di rimanere al termine della prova gratuita di 30 giorni tuttavia a caso lo spazio limitato del programma questa offerta è gratuita e disponibile solo per un numero limitato ai nuovi clienti quindi prima di completare il tuo ordine devo assicurarmi che tu voglia di mantenere il tuo accesso premium quindi esclusività scarsità l'abbonamento a Nation ti dà accesso interno a decine di video extra bla 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 suggerimenti allenamento avanzato la serie e qua sono i bullet point fondamentalmente per capire perché il tuo accesso gratuito è così puoi capire perché il tuo accesso gratuito è così prezioso e perché devo assicurarmi che tu sei interessato a mantenere il tuo post quindi fondamentalmente lui ha detto ok hai 30 giorni di accesso se tu completi il mio ordine in questa maniera qua ti attacco anche la membership quindi pagherai anche i 47 dollari al mese è già attaccata prima gli davano accesso 30 giorni poi scadeva in questo caso hanno sempre accesso ai 30 giorni però dopo credo che parti i 47 dollari al mese a partire dai 30 giorni successivi mentre prima no anche perché un carrello che dice 37 dollari più 47 dollari al mese cazzo spaventa cioè la gente dice io voglio solo il programma non voglio sta roba no mentre se tu gliela metti come upsell è molto intelligente dal mio punto di vista questo è il primo upsell questo è il più importante quello che deve portare la maggior parte di vendite vediamo il secondo upsell che è questo questo è per le persone che hanno acquistato la membership quindi ancora una volta guardate che sembra sempre un pop up anche questo sembra sempre un cazzo di pop up my products però non è un pop up ragazzi e attenzione questa è sempre una pagina di vendita ok questa è una pagina di vendita a sé non è un pop up mi ha detto nel tuo portale bla 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 prima di completare l'ordine sono su questa pagina l'opportunità una volta di acquistare la serie Ultimate Combat Solution con risparmio del 77% e qua gli si presenta praticamente un altro prodotto più di un coltello gratis ascolta perché hai agito so che sei il tipo di uomo che posso fidarmi di queste informazioni il tipo di uomo prodotto resiste a proteggere chi non può proteggersi sai che anche qui sul fronte interno dobbiamo affrontare molte minacce bla 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 qua ci sai praticamente è un bonus combattente di coltelli che è abbastanza coerente con insomma il programma che gli ha venduto coltello tattico questa è una figa secondo me la maggior parte della vendita lo fa questo il coltello tattico perché ancora una volta è concreto cioè non è semplicemente non sono semplicemente informazioni c'è una roba che puoi stringere tra le mani poi è figo guardate che figata questo coltello cioè io lo comprerai solo per il coltello infatti io l'avrei messo qua onestamente come primo cioè prima di combattere che cazzo me ne fai i combattenti di coltelli no il coltello questo è figo bonus a tempo limitato spara tutto in combattimento come con il programma con le pistole questo è abbastanza prefissato spara tutto in carabina questo è abbastanza prefissato fucile a pompa ma che cazzo perché in america possono acquistare le armi se proprio come cazzo gli pare ah bella anche questa la penna tattica molto interessante protocollo fantasma quindi un sacco di roba ragazzi vedete che c'è un sacco di materiale è un bundle fondamentalmente quasi troppo si perde un attimino il senso della one thing della singola cosa quindi non so quanto converto onestamente questo upsell 197 dollari inziché 855 eccetera eccetera ok ora vediamo invece il downsell numero uno quindi se uno rifiuta questo è importante anche se uno rifiuta l'upsell che abbiamo visto della membership a 47 dollari al mese aspetta in buona coscienza non posso lasciare andare senza il pacchetto ultimate combat solution accetto un altro sconto del 50% perché so che questi strumenti hanno la capacità di essere ancora più forte e pronto per l'azione quindi 50% di sconto per che cosa ah ah gli presenta ah no aspetta questo è il downsell per il prodotto che abbiamo appena visto quindi non è la membership non è un sconto sulla membership ma per il pacchetto che abbiamo appena visto quello con mille cose dentro e gli ripresenta tutte guardate che non c'è il bottone qua cioè questo è interessante non è che gli metti il bottone 97 dollari acquista qui no 97 dollari scendi in basso riguarda tutto quello che c'è dentro così ti convinci di più guarda quanta roba e qua poi ti acquisti la roba quindi 50% stessa identica offerta interessante questa cosa qua invece vediamo questo è è il downsell numero 2 ah questo è sempre lo stesso prodotto questo è sempre lo stesso prodotto essential fa un altro 50% sul 97 dollari cazzo però gli elimina praticamente la roba fisica chiaramente che è quello che costa questa è roba gratis che gli si invia gratis gli togli il coltello la pena nel combattimento un altro 50% quindi gli si elevano dei bonus gli si presenta la stessa offerta scontata interessante questa scelta questo è il downsell numero 3 guarda il cazzo di downsell incredibile una sequenza di downsell questi non ti lasciano andare e non acquisti qualcosa questo è solo 27 dollari quindi stessa roba però 50% di sconto figo ok quindi è partito da 197 dollari con tutto 97 dollari con tutto poi era 47 quindi 50% solo con la roba digitale poi 27 solo con la roba digitale uno qualcosa la compra così molto molto smart e questa è semplicemente la pagina di ordine finale ok ragazzi è stato è stata intensa spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto anticonvenzionale diverso rispetto allo solito io mi sono divertito perché fare questa roba come dicevo imparo sempre qualcosa quindi lo faccio in primis per me però se posso condividere anche qualcosa con voi magari qualcuno di voi trova utile interessante questo tipo di format fatemelo sapere ragazzi perché cioè non so se diciamo è una roba un pochino troppo avanzata se invece è riuscito a trovarsi del valore dentro questa roba e nulla se vi piace possiamo continuare un episodio del mese adesso vediamo e niente grazie ragazzi fatemi sapere il vostro feedback e noi ci sentiamo ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti